e continuiamo parlando di attualità con un appassionato direi sguardo alla politica grazie al nostro prossimo focus ci soffermiamo in particolare sulla campagna e sulle criticità della sanità pubblica e lo facciamo in compagnia di genaro saiello consigliere regionale del movimento 5 stelle presidente della commissione lavoro 4.0 buongiorno buongiorno a voi ben trovato ecco iniziamo subito il nostro approfondimento il consiglio di stato ha accolto il ricorso della regione campania l'annuncio quindi è stato dato dallo stesso governatore vincenzo de luca per la dura avvertenza in corso tra regione e il ministro fitto sulla gestione appunto del fondo sviluppo e coesione come commenta questa notizia anche ancora non chiude quindi le contese tra governo e governatore ma direi finalmente noi siamo stati giari sin dal primo momento insomma questi 6 miliardi di euro spettano alla nostra regione campania per per finanziare e programmare diciamo interventi importanti svariati settori penso al settore turistico quello della cultura teatro musica interventi importanti per i comuni per la messa in sicurezza delle strade insomma della sicurezza proprio delle nostre città ed era assurdo è assurdo ancora oggi perché si è avuta questa notizia ma manca l'accordo quindi ci auguriamo che ora ci sia un clima più disteso che porti il governatore e il governo centrale a sedersi ad un tavolo e finalmente a sbloccare questa situazione i cittadini non possono pagare lo scotto di una lite di tipo politico perché questo è quello che è passato abbiamo sempre fatto appello al buon senso sia al governatore per i toni utilizzati insomma e sia al governo centrale che comunque come dimostra anche l'accoglimento di questo ricorso ha messo in campo una procedura ingiustificabile insomma ingiustificata perché come hanno chiuso e definito accordi per le regioni insomma più disparate non si capisce perché insomma sulla campania c'è stato questo accanimento e quindi l'unica diciamo ipotesi l'unica idea che ci siamo fatte è quella di fare uno strizionismo di tipo politico ma in questo caso a pagare poi il territorio perché abbiamo festival internazionali come quello di Ravello Giffoli insomma che ormai hanno acquisito un'importanza di caratura diciamo europea e internazionale che sono in difficoltà nella programmazione di eventi che sono a breve sia per ingaggiare compagnie importanti come hanno fatto negli scorsi anni ma sia per programmare materialmente insomma la situazione stessa cosa sul turismo che è uno dei settori fondamentali per la nostra diciamo campania eppure lì ci sono dei ritardi quindi stiamo pagando lo scotto di un atteggiamento che non diciamo è giustificato da nulla. Rimaniamo sull'attualità perché lei da poco ha presentato una mozione per l'introduzione del salario minimo a 9 euro l'ora per tutte le procedure di gara. Di che cosa si tratta e quali sono le risposte che finora ha avuto dal governatore? Allora noi dobbiamo partire da un presupposto. Oggi più di ieri l'aumento del costo della vita ha aumentato il divario sociale, la precarietà insomma oggi anche coloro che possono godere di un inquadramento contrattuale spesse volte si imbattono con condizioni che sono da sfruttamento. Lo sanno bene i giovani della campania insomma e tante persone che per necessità accettano spesse volte queste condizioni che sono al di sotto della soglia anche di povertà. È una situazione che non può andare più avanti è assurdo che il governo centrale abbia affossato la nostra proposta di legge e quella delle opposizioni non facendo partire di fatto la procedura per l'approvazione di una norma. 21 paesi su 27 in Europa hanno già approvato una legge di questo genere cioè stabilendo una soglia al di sotto della quale non si può scendere proprio per la dignità del lavoratore della sua famiglia che deve poter godere di una retribuzione che gli consenta insomma di poter condurre una vita quanto meno dignitosa e agiata. Abbiamo paesi come la Spagna che sono intervenuti in ultimo per aumentare il quantum della retribuzione minima e abbiamo invece in Italia un governo Meloni che si disinteressa di tutto ciò. Ovviamente noi non ci siamo fermati a livello parlamentare insieme al PD e altre forze politiche di centro-sinistra abbiamo fatto partire una petizione a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare che arriverà quindi in Parlamento con la forza dei cittadini direi e intanto però nei comuni e nelle regioni come la nostra regione abbiamo depositato una mozione per dire alla regione Campania in questo caso di inserire questo parametro di 9 euro lordi all'ora in tutti gli appalti gestiti dalla regione Campania. Quindi le aziende che si aggiudicheranno un appalto nella nostra regione sia consiglio regionale sia giunta regionale sia enti strumentali le partecipate devono garantire ai lavoratori una paga di questo genere. Penso che sia fondamentale ed è bello aggiungo e chiudo che questa vicinanza a questo problema si stia mettendo in campo con strumenti fattivi concreti che partono dai comuni dal basso dai territori e dalla regione Campania. Devo dire che l'altro giorno al Senato su iniziativa della vicepresidente Marolina Castellone abbiamo organizzato una conferenza stampa dove erano presenti anche esponenti di rilevo del PD e c'è stata apertura insomma di lavorare insieme per approvare questa mozione che arriverà quindi dopo l'appuntamento per le europee in aula a questo punto. Continuiamo parlando di una criticità che lei sta affrontando con partecipazione e con tanto impegno. Sono 600 i bambini che da gennaio sono privati del supporto del neuropsichiatra infantile all'Asda Napoli 3 Sud distretto 34 di Portici. Quindi una vicenda davvero terribile direi che coinvolge dei minori ma anche proprio le loro famiglie. Come si è arrivati a questo punto? Siamo in una situazione assurda della sanità in Campania dove queste famiglie sono disperate perché hanno bambini con dei disturbi anche dell'autismo e non possono accedere alla prima visita che è quella importante perché è la diagnosi precoce per capire insomma quale sia il disturbo del bambino e avviarlo verso delle terapie che se prese in tempo possono anche essere utili per migliorare insomma la condizione anche del bambino. Non lo possono fare perché mancano i medici manca lo specialista a Portici sulle situazioni assurde che dopo le nostre il nostro intervento per stemperare questa assenza insomma che c'è nel distretto 34 l'Asl ha mandato due professionisti part time per sopperire a questa carenza ma non sono bastevoli per rispondere velocemente alle esigenze delle famiglie. Ho parlato anche con il direttore dell'Asl della Napoli 3 Sud il quale mi ha confermato la difficoltà in cui si trovano cioè su 56 neuropsichiatri che dovrebbero essere presenti in Campania nella ASL di cui stiamo parlando ce ne sono soltanto 17 e questa è una cosa assurda. Allora dico il governatore qualche mese fa intervistato sulla questione legata al bilancio alla gestione anche del bilancio si vantava del fatto che siamo per i risultati ottenuti una delle prime regioni d'Italia. Certo bene questa cosa qua però bisogna guardare anche poi il servizio che va a erogare alla cittadinanza specie su settori così delicati importanti che riguardano la salute dei cittadini. Allora abbiamo strutture ospedaliere fatiscenti, carenze endemiche, medici di base, mancano 400 medici di base in tutta la Campania. Abbiamo diciamo un tetto sanitario dei fondi messi a disposizione che si esaurisce dopo la prima settimana di ogni mese. Oggi se non hai soldi in Campania non ti puoi curare, non è concepibile, ammissibile una cosa del genere. La sanità è un settore primario e noi stiamo facendo battaglie per portare questo tema ogni giorno in regione Campania, sui neuropsichiatri, sugli OSS, sui medici di base, sui pronto soccorso che sono stati chiusi in questi anni nonostante le promesse di De Luca di riaprirli. Penso all'ospedale di Bosco Trecasa e pronto soccorso, San Giovanni Bosco, sono i presidi salvavita per i cittadini quando c'è un'emergenza. Allora noi ci dobbiamo interrogare di questo. Va bene che si lavori per far quadrare i conti, ma dall'altro canto però bisogna discutere. Penso al saldo negativo della migrazione sanitaria. Noi spendiamo la meta di 200 milioni di euro all'anno per pagare i nostri cittadini che decidono di andare a curarsi altrove. E proprio per comprendere qual è il rapporto tra la necessità dei cittadini e le difficoltà che sta vivendo in questo momento la sanità in Campania soprattutto, ascoltiamo le opinioni dei napoletani su questo annoso problema con le testimonianze raccolte per noi dalla nostra benedetta. I campani e la salute pubblica, un connubio che tra emergenze e criticità continue non è poi dei più rosi. Ma quali sono le problematiche e le richieste dei cittadini? Andiamo a sentire il loro parere. Qual è il tuo pensiero in merito alla sanità pubblica in Campania? Che dovrebbe migliorare sotto certi aspetti anche perché ho un parente che lavora all'interno dell'ospedale del Cardarelli e oltre ovviamente a migliorare per quanto riguarda l'accettazione e tutto il decorso, migliorare anche le condizioni per i lavoratori perché la situazione è davvero disastrosa. Siamo a livelli molto molto bassi perché una sanitaria, quando uno fa una domanda, diciamo, va al CUP e fa la ricetta per fare una visita specialistica, non deve aspettare 5-6 mesi. Secondo me è molto negativo, non è positivo. Beh, un po' disorganizzato, diciamo, potrebbe sicuramente migliorare soprattutto dal punto di vista delle prenotazioni degli esami. In base alla sua esperienza, quali sono le difficoltà che ha riscontrato? La mia esperienza personale è ottima, devo dire la verità. Soffrendo di cardiopatia, diciamo, ho fatto un'ottima esperienza. Parlo in generale, non parlo per la mia esperienza personale. Un po' messi male al sud in generale, in realtà un po' in Italia in generale perché sulla sanità diciamo che il personale medico negli ospedali pubblici viene sempre più a mancare perché giustamente se lo stipendio è minimo, chi studia medicina dopo tanti anni di studio preferisce lavorare nel privato dove ti fai tanti soldi. al mese. Che il personale non è gratificato dal lavoro che fa, perché comunque, soprattutto a Castellamore, siccome è un ospedale su tipo 30 km di raggio comunque, si trova comunque con molti più pazienti rispetto al dovuto e quindi c'è un sovraccaico proprio di lavoro. Sono dei medici fantastici e degli ottimi ospedali, purtroppo non è finanziato abbastanza. Di cosa ha bisogno il cittadino per vedersi più tutelato nel diritto alla salute? Che questo diritto ci sia. Ecco, io ho un esempio di mio marito che è in lista da un anno e mezzo che deve essere operato ai calcoli al Rene e siamo ancora così e lui sta peggiorando. secondo me ci sono un bisogno di medici. Abbiamo bisogno di medici. Ecco, il quadro non è roseo, dichiarazioni molto forti. Come si sente di commentare? Ma l'ho detto prima, è una situazione veramente drammatica. Sicuramente anche il governo centrale con i tagli che ha portato non sta aiutando le regioni, la regione Campania a migliorare. Però io credo molto in un'azione di efficientamento anche delle risorse che abbiamo. Devo dire che il governatore su alcune cose ci sta ascoltando. Ha mandato una circolare per esempio ai distretti e agli ospedali per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie. Lo scorso anno grazie alla nostra azione abbiamo sbloccato le assunzioni per 200 posti nell'Asda Napoli 1 per gli amministrativi. Stiamo facendo veramente pressing sotto questo aspetto. Però ovviamente servono maggiori risorse, serve una cabina di regia. Ecco, ci sta ascoltando anche su questo. È inspiegabile che ogni ospedale, ogni aslo possa agire in maniera autonoma senza una centralizzazione che possa andare a colmare carenze e inefficienti. Ed è stata istituita una cabina di regia centralizzata sul nostro Consiglio. Quindi da un lato il governatore sta capendo che le opposizioni costruttive, perché noi siamo sempre stati sotto questo avviso, cioè bisogna lavorare comunque insieme a delle bandiere per migliorare settori come questi. E allora con proposte, con solleciti, devo dire che stiamo smuovendo le acque sotto vari punti di vista. Però servono più risorse e serve un'azione mirata anche ad allontanare, e lasciatemi dire, la politica spesse volte dal settore sanitario. Perché è la classe politica effettivamente affidata a questa grande responsabilità. Io la ringrazio di essere stato in questa squadra. Grazie a voi, grazie per l'invito. Questa mattina, mattina live, quindi ringraziamo ancora una volta Giannaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Lavoro 4.0. Piccolo break, rimanete con noi. Grazie a tutti.